Non si placano le polemiche su Belen Rodriguez. Dopo l'annuncio delle nozze con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, con tanto di foto con un bellissimo anello E le critiche pesanti da parte anche dei fan, ora spunta una rivelazione clamorosa sulla showgirl argentina. Ma andiamo con ordine. Pochi giorni fa la conduttrice è volata alle Maldive insieme al compagno Elio Una vacanza super lusso in un resort da favola dal costo proibitivo, 3.800 euro a notte con colazione per una villa con confort extra lusso, accesso privato alla spiaggia e maggiordomo personale disponibile 24 ore al giorno Foto e video condivisi sui social e tante critiche da parte degli utenti. Belen Rodriguez, infatti, è volata alle Maldive con tutti i suoi fidanzati, da Fabrizio Corona ad Antonino Spinaldese, passando ovviamente per il marito Stefano De Martino e Andrea Iannone Belen Rodriguez ubriaca sull'aereo per Dubai Dopo le critiche e i commenti al Belen sulla sua nuova storia d'amore, qualcuno ha lanciato una nuova rivelazione su Belen Rodriguez Secondo quanto riporta Gossipetv, la showgirl era ubriaca durante il volo per Dubai, scalo obbligato prima del volo per le Maldive A parlare è stato un testimone oculare che si trovava proprio sul volo in cui c'erano la Rodriguez e il fidanzato Elio Lorenzoni Come scrive il sito Gossipetv, il passeggero, che viaggiava in business sul volo della compagnia aerea Emirates, ha raccontato che Belen Rodriguez Definita alticcia, avrebbe chiesto ancora alcolici al personale di bordo ma Stuart e Hostess si sarebbero rifiutati di farla bere proprio perché visibilmente alterata dall'alcol Il testimone, che ora si trova a Bali, ha scritto sotto a uno degli ultimi post Instagram, era abbastanza alticcia, e ufemismo Il personale di bordo si è rifiutato di servirle ancora alcolici A chi gli ha chiesto informazioni su quanto fatto da Belen Rodriguez sul volo diretto a Dubai, il testimone ha detto di aver visto la scena con i propri occhi e che Dopo diversi rifiuti da parte del personale di bordo, Belen Rodriguez si è addormentata coprendosi con un plaid per oltre sei ore